ciao a tutti oggi vi parlo dell'hybrid 48 volt di hyundai l'hybrid 48 volte di hyundai è un ibrido a tutti gli effetti ed è perfetto anche per quelli a cui continua a piacere la guida tradizionale come funziona il motore termico e quello a combustione per capirci è quello che fa muovere le ruote e il motore elettrico 48 volt lo supporta nell'avviamento nel transito e nell'accelerazione è un po come la bici pedalata assistita solo che qui il motore elettrico si ricarica da solo quando freni e poi consumi ed emissioni sono inferiori fino al 7 per cento in meno in una tucson 48 volt in più hai tutte le agevolazioni per le auto ibride della tua regione sapevi che solo hyundai ti offre l'hybrid 48 volt su motori benzina o diesel basta